Mamarella, prime impressioni dopo questi primi giorni di ritiro? Sì, positive, al di là dei ragazzi che conosco pian piano stanno arrivando i nuovi acquisti, quindi è un inizio fatto magari inizialmente di test e di valutazione da parte dello staff, quindi credo che tra qualche giorno entreremo nel vivo del ritiro. Ti stai lucidando il piede sinistro, due anni fa tanti gol, lo scorso anno un po' meno, ma non si può chiedere sempre la luna, però? Però la speranza è sempre quella magari di migliorarsi sia personalmente sia a livello di squadra, però come ho sempre detto spero sempre che non venga mai meno l'apporto magari non solo per quanto può riguardare un calcio piazzato, ma sicuramente nel complessivo dei 90 minuti o di un campionato intero. A livello di obiettivi siete partiti sempre per salvarvi, però nelle ultime due stagioni avete sempre sfiorato i play-off. Quest'anno sarà una Virtus che ancora può competere per quel livello di campionato o cercate di guardare un po' più in basso, un po' più andate con i piedi di piombo? No, il profilo deve essere sempre quello, un profilo comunque di una squadra che ha voglia di raggiungere degli obiettivi importanti. Importanti, importanti possono sicuramente essere a fine anno magari una salvezza, può essere qualcosina in più. Questo sta a noi cercare di, come ho sempre detto io ogni anno, riparto per poterci migliorare. Ecco, quindi la speranza è di togliersi qualche soddisfazione in più sicuramente, però visto anche quello che ogni anno riserva questa Serie B, credo che come speranza mia è sempre quella di ottenere una salvezza il prima possibile.